Cari amici, benvenuti al decimo convegno di Sacrofano. Continuiamo a chiamarlo così per il luogo nel quale ci siamo trovati in questi dieci anni. Un carissimo saluto a tutti quelli che hanno sempre frequentato questi convegni. Un caro saluto a tutti i nuovi che si sono fidati di un annuncio. Un carissimo saluto a quanti si iscriveranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sapendo che potranno recuperare tutto il contenuto di questo primo incontro del convegno attraverso un codice che verrà loro offerto. Spero e prego che per tutti sia un fidarsi dello Spirito Santo, che anche oggi guida e anima la sua Chiesa. Abbiamo scelto un tema molto concreto, molto affascinante, la complementarietà tra sacerdote e sposi nella missione della Chiesa. Siamo stati inquaraggiati per questo tema dalle parole di Papa Francesco pronunciate il 25 gennaio dell'anno scorso, dell'anno scorso, preti e sposi una complementarietà indispensabile, resa feconda dallo Spirito. Vogliamo approfondire e dare risonanza a questo tema. Certo, lo affrontiamo in un momento di estrema incertezza, oggi tutto è incerto in questa epidemia, ma non è incerta la forza e la bellezza di questi due sacramenti, ordine e matrimonio. Vediamo ora i motivi che ci hanno condotto ad affrontare questo tema. Innanzitutto, per sgomberare il terreno, affrontiamo questo argomento non per il fatto che ci sono pochi sacerdoti e quindi tutti i laici, sposi compresi, sono chiamati a responsabilizzarsi e quindi per certi versi dovremmo in qualche modo sollecitare anche gli sposi a rendersi utili. Non è assolutamente questo. Invece vogliamo mettere in moto, accendere la missione degli sposi perché nel mondo dei laici gli sposi sono stati segnati da una grazia specifica ed è stata loro conferita una missione originale e conoscendola si mette in evidenza ancora più quello che solo il sacerdote può fare, ma anche che il sacerdote da solo non può fare. Quando andiamo a mettere a confronto ordine e matrimonio, noi vedremo certamente tutto ciò che solo il sacerdote può fare, ma anche vedremo che c'è un altro sacramento che va a compiere una missione originale che il sacerdote da solo non può fare. Così il sacerdote, si capirà, non è stato pensato come un sacramento solitario, ma come un sacramento da esercitare insieme con l'altro sacramento che è quello del matrimonio. In altre parole, in questo incontro diamo il via ad uno studio serio sulla complementarietà tra i sacramenti della missione e quindi anche alle conseguenze pastorali che ne derivano. Mi permetto di notare che questo non è frutto di fantasia teologica, ma di approfondimento teologico pastorale di ciò che lo Spirito Santo ha già detto alla Chiesa dal Concilio in poi. Quale metodologia? Il convegno inizia con questo incontro e proseguirà con un incontro mensile fino a giugno. Tra un incontro e l'altro verrà spiegato un piccolo lavoro di approfondimento che si può fare attraverso quegli strumenti che avete già ricevuto o che riceverete. Si arriverà quindi al momento finale del convegno. Quando alla luce di quanto ci siamo detti, di quanto abbiamo approfondito in questi sei mesi, andremo ad osservare il panorama pastorale, cioè sacerdoti e sposi nell'ottica dell'evangelizzazione, nell'ottica del costruire la comunione ecclesiale, nell'ottica della vita sacramentale. Quindi abbiate un po' di pazienza, stiamo cercando adesso di costruire le coordinate di fondo per andare a capire perché e come sacerdoti e sposi interagiscono per l'unica missione in forza della rispettiva grazia sacramentale. Questa conclusione del convegno si svolgerà per chi vorrà e se sarà possibile in presenza, oppure via streaming. Quindi a ciascuno sarà data la possibilità di scegliere come vivere questo momento, conclusivo del convegno. Per finire, non potendo per ora incontrarci di persona, almeno avremo tutti insieme lo sguardo e il cuore puntato in un'unica direzione. Sarà un'icona bellissima e preziosa che è stata realizzata in preghiera e donata con il marito da Roberta Boesso, realizzata propriamente per questo convegno. Voi ne avete già in mano una fotografia o la riceverete, ma vi accorgerete quando avrete la possibilità di incontrare di persona questa icona quale bellezza e quale mistero grande essa comunica. Il suo nome è Doni per la Chiesa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.